Santa Vergine addolorata a Luz de Maria Se arriva la Terza Guerra Mondiale, l'Italia scomparirà per sempre. In questo messaggio, donato alla Vegener Luz de Maria, attraverso parole cariche di affetto e premura, la Vergine Maria, davvero molto addolorata, evidenzia un clima di confusione e smarrimento che regna tra i fedeli, invitandoli a un ritorno alla fede e all'obbedienza ai divini comandamenti. Nonostante il quadro preoccupante delineato, il messaggio della Madonna non è privo di speranza. La Vergine confida nella forza dei Suoi figli e li invita a riscoprire la vera fede, l'amore fraterno e la preghiera come armi per superare le avversità e costruire un futuro migliore. Leggiamo il messaggio Amati figli del mio cuore immacolato, vivete in mezzo a una grande confusione. Avete posto la legge di Dio al libero arbitrio dei miei figli. Alcuni si giustificano dicendo che si sono stancati di aspettare che gli annunci della casa padre si realizzino, ma questi, figli miei, sono errori, grandi errori che i miei figli che non vogliono obbedire ai mandati divini giustificano. La chiesa di mio figlio è in confusione. Fate tesoro della parola di mio figlio, predicate la verità, camminate sulla retta via. Figli miei, la chiesa di mio figlio si troverà desolata e voi dovrete pregare per riparare alla tiepidezza dei vostri fratelli. Figli miei, non lasciatevi confondere, perché i segni dei tempi, e di questo in particolare, vi parlano chiaramente di quanto si compirà in un tempo molto breve. I segni e i segnali continueranno e servono a mettervi in guardia, affinché vi svegliate e guardiate la realtà e smettiate di guardare da lontano gli eventi che continuamente si susseguono. Figli miei, la chiesa di mio figlio deve rimanere unita nella preghiera in tempo e fuori tempo, perché il nemico dell'anima è in bilico sull'umanità. Ai, al momento della purificazione, la disperazione in cui entreranno i miei figli che rimangono distanti, li porterà a confondersi per disperazione e ad essere condotti dal diavolo nella grande trappola di una sola religione. Vivete nel conformismo, figli miei, e questo non può essere in questo momento in cui l'umanità è scossa da una terza guerra mondiale, che, se arriva, distruggerà completamente molti stati, tra cui l'Italia. Vi invito a pregare, figli miei, a pregare con il cuore, con i sensi, con la coscienza, con il cuore, perché come figli obbedienti non potete accontentarvi di vivere nell'ignoranza. Dovete vivere amandovi come fratelli in questo momento cruciale dell'umanità in cui molte anime si perderanno, ma anche figli miei, anche ai tiepidi dovete cercare di parlare loro con il linguaggio dell'amore perché il linguaggio dell'amore è in grado di conquistare i cuori più duri che esistono. Grazie Grazie Grazie